Il treno regionale 25337 di Trenord proveniente da Luino e diretto a Gallarate delle ore 16.10 è in arrivo ordinario 2. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla, ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale 25337 di Trenord proveniente da Luino e diretto a Gallarate delle ore 16.10 Il treno regionale 25337 di Trenord proveniente da Luino e diretto a Gallarate delle ore 16.10 Il treno regionale 25337 di Trenord proveniente da Luino e diretto a Gallarate delle ore 16.10 Il treno regionale 25337 di Trenord proveniente da Luino e diretto a Gallarate delle ore 16.10